C'è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al terzo Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati, mappe e creatività organizzato da Consiglio regionale, Topics e CSI Piemonte. Dopo i dati aperti e le mappe partecipate, questo hashtag PiemonteViz si propone di raccontare il territorio piemontese e le sue trasformazioni.